Quattro ex collaboratori esterni del piano di zona Salerno 8 che avevano un contratto COCOCO, collaborazione coordinata e continuativa, hanno fatto causa all'ufficio di piano perché, a detta dell'avvocato Alfonso Esposito, che li difende, non sono stati stabilizzati. In realtà, con il nuovo decreto Madia entrato in vigore a giugno 2017, vengono aboliti i contratti flessibili e quindi COCOCO a favore di contratti di stabilizzazione, ovvero l'articolo 20 CO1 rubricato superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni consente alle pubbliche amministrazioni di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegge i requisiti. In tal senso, presso l'ufficio di piano fu varata una delibera, la numero 3 del 27 dicembre 2017, che dava seguito al decreto Madia, ma il coordinamento istituzionale che avrebbe dovuto dare il via alla procedura non è stato mai convocato. Nei prossimi giorni, i quattro ex collaboratori, per tramite dell'avvocato Esposito, chiederanno una somma di 480 mila euro al giudice del lavoro, 120 mila euro cada uno perché non veniva elargito il trattamento di fine rapporto e per mancati pagamenti di una serie di attività accessorie. In realtà, essendo il piano di zona una delegazione intersoggettiva composta da 37 comuni, se dovessero avere ragione i quattro ex collaboratori, a pagare saranno tutti i comuni dell'ambito. Che il personale attualmente operante, leggo proprio testualmente per evitare che qualcuno possa creare ulteriormente confusione, di stabilire per l'effetto che al personale attualmente operante nell'ufficio di piano, nel segreterato sociale e nel servizio sociale e professionale, con contratto di lavoro flessibile, nell'emore dell'avvio delle procedure speciali di reclutamento, verranno prorogati i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile, senza ricorso ad altre forme di lavoro autonomo, di dare mandato al coordinatore dell'ufficio di piano di mettere in atto con la massima celerità tutti gli adebbimenti necessari all'aduzione delle procedure speciali di reclutamento del personale del decreto 75 2017, per i co-co-co, come meglio esplicitane nella circolare 3 2017, che sarebbe poi la stessa circolare. Ad un certo punto però che cosa succede? Succede che noi siamo costretti a fare una rifida, succede che noi siamo costretti a ricorre l'altare, succede che il piano di zona, che ha sempre detto di non avere una capacità giuridica di assumere questi operatori, però nel contempo nomina avvocati per contrastare l'esercizio di un diritto di soggetti che lavorano da circa 13-14 anni, diciamo tra virgolette, sono i cosiddetti reali fondatori del piano di zona, fino ad arrivare in Consiglio di Stato, ma per ottenere un nulla di giuridicamente rilevante, perché alla fine sia il Tar di Salerno sia il Consiglio di Stato ha sentenziato una cosa molto semplice, ha detto sì, saranno anche valutabili le vostre osservazioni giuste, ma dovete andare davanti al giudice del lavoro. Questo che cosa implica lo Stato attuale? Perché credo che la maggior parte delle organizzazioni dei comuni, e soprattutto i rappresentanti dei singoli comuni, forse sfugge questo problema. Cioè sotto le medite spoglie del COCO CO c'era un vero e proprio contatto a tempo indeterminato, di fatto al di là di questo si andavano soprattutto al di fuori di quello che erano gli orari, non venivano elargiti, non è stato elargito ai miei 4 assistiti il trattamento di fine rapporto lavorativo, nonostante il 31 dicembre del 2018 sia passato, non sono stati pagati le fere, non sono stati pagati gli straordinari, non sono stati pagati tutta una serie di attività accessorie e ovviamente questo si traduce che da qui a qualche giorno ci saranno 4 ricorsi dove, essendo quasi la posizione similare che si uniforma tra i 4 mei, quindi 4 ricorsi dal giudice del lavoro con una richiesta di pari circa 120 mila Euro cada uno. Ovviamente di questa situazione e di questa responsabilità di carattere contabile, seppur ci sarà una responsabilità contabile nei confronti di chi non ha voluto, non si conoscono ancora le ragioni, le ragioni mi sfuggono perché io solitamente sono abituato a valutare gli atti sotto il profilo della confondibilità o meno al diritto, poi se ci sono delle ragioni politiche allo Stato attuale ancora nessuno me le riesce a far capire e sostanzialmente ci saranno un importo di 400, 500, credo che poi a ruta libera anche altri operatori seguiranno, che non dovrà pagare soltanto il Comune Capofila di Vallo della Lucana, ma tutti e 37. 7 Grazie a tutti.